Cosa hanno in comune Silvio Berlusconi, Flavio Belatore e questo tizio su un jet privato? Sono tutti, o perlomeno lo sono stati, agenti immobiliari. In questo video vedremo il processo per diventare un agente immobiliare passo passo, anche nei dettagli più tecnici. Mi chiamo Jacopo Tartaglia e sono appunto un agente immobiliare. In descrizione a questo video trovi tutti i link inerenti a me e alla mia attività. Passo numero 1. Prova. Il primo step, a mio avviso, è provare. Lo stereotipo dell'agente immobiliare che guida un'auto di lusso e va in giro nei posti più belli d'Italia a vendere ville da sogno esiste, ma nella maggior parte dei casi l'agente immobiliare è una persona che è molto legata al quartiere e ha un negozietto con una vetrina con qualche immobile in vendita. Sono in pochi quelli che riescono veramente a sfondare, soprattutto in un mercato difficile, come quello del lusso e degli immobili di prestigio. Comunque anche chi lavora nel settore degli immobili di prestigio e del lusso fa un'attività che è sicuramente diversa da quello che è l'agente immobiliare nell'immaginario collettivo. Infatti un bravo broker immobiliare deve avere conoscenze giuridiche, tecniche e finanziarie per consigliare nella maniera corretta i propri clienti. Deve sviluppare una forte componente commerciale nel suo lavoro per acquisire clienti e immobili da vendere. E spesso l'agente immobiliare dovrà mettere da parte il proprio ego per poter chiudere le trattative, nell'interesse delle parti, dei clienti, e non avere ragione. La ragione, l'ego, sono cose che fanno male alle trattative. È un lavoro molto complesso, come abbiamo visto, probabilmente diverso da quello che ti immagini. Quindi il primo consiglio è prova, inizia a lavorare in un'agenzia immobiliare. Lo puoi fare anche se non hai l'abilitazione, avrai delle limitazioni nelle attività che puoi fare e in alcuni casi dovrai essere assistito da un broker immobiliare abilitato. Per esempio in caso di proposta, contratto preliminare o incarico di vendita. Iniziando a lavorare in un'agenzia potrai capire se il lavoro ti piace e pensi di poterci costruire una carriera. La prima cosa che devi fare è inizi a lavorare nel settore. La mia azienda, Valente Italian Properties, ha proprio un percorso di crescita per questo, per chi vuole iniziare a fare l'agente immobiliare in maniera seria e professionale nel settore degli immobili di prestigio. Continuamente selezioniamo i migliori candidati per lavorare con noi. Quindi se pensi di avere le caratteristiche e soprattutto l'ambizione di lavorare con noi, scrivi a infochiocciolavalenteit.com per cominciare il processo di selezione. Passo numero 2. Scegliere l'agenzia giusta. Abbiamo detto che prima di prendere qualsiasi decisione è importante provare a fare il lavoro dell'agente immobiliare, però devi scegliere l'ambiente giusto, l'azienda giusta dove iniziare il tuo percorso. E ci sono alcuni dettagli che devi prendere in considerazione quando stai effettuando questa scelta. Il primo sono sicuramente i compensi. Ci sono agenzie che pagano completamente a provvisione, quindi non c'è nessun fisso, e altre agenzie invece che prevedono un fisso o un rimborso spese più provisioni, un po' più basse ovviamente. Qui la scelta deve essere orientata dalla tua situazione di partenza. Considera che quando comincerai a lavorare come agente immobiliare sarà improbabile cominciare a vendere subito dal primo mese con costanza. Quindi se sei in una situazione dove hai bisogno di incassare subito dal primo mese, dovrai orientarti per un'azienda che ti garantisce un fisso o un rimborso spese fisso più delle provisioni. Se invece hai una situazione economica che ti permette di poter stare anche 4, 5, 6 mesi senza guadagnare niente, potresti orientarti anche verso un'agenzia immobiliare che paga solo a provvisione. Perché ha un'approvvisione molto più alta e probabilmente nel medio-lungo termine andrai a guadagnare di più. Alcune aziende invece hanno un sistema ibrido, per esempio la nostra, dove chi comincia ha subito un rimborso spese iniziale e le provisioni. Poi a un certo punto, quando acquisisce sicurezza, il giro d'affari aumenta, l'agente immobiliare, la persona può decidere di abbandonare il fisso e avere delle provisioni più elevate. Il secondo punto da tenere in considerazione sono le modalità di impiego. Ora, il 99% delle agenzie immobiliari ha collaboratori che sono a partita IVA, quindi non aspettarti un'assunzione se vuoi fare l'agente immobiliare. D'altro canto, tieniti lontano da quelle agenzie che ti impongono degli orari fissi di ufficio e di lavoro, perché se lavori a partita IVA, la legge dice che nessuno ti può imporre degli orari. Quindi devi poter lavorare in autonomia, avere degli orari flessibili, devi stare in ufficio quando vuoi, quando ce n'è bisogno, quando devi incontrare dei clienti. Non ti possono dire, vieni in ufficio alle 9, vai via stasera alle 8, perché non si può fare. Per farlo dovrebbero assumerti. Ovviamente l'agenzia immobiliare ti richiederà certi standard di produzione, certi obiettivi, soprattutto nel caso in cui tu abbia uno stipendio fisso, un rimborso spese più provisioni. Quindi dovrai rispettare i loro standard, dovrai rispettare gli obiettivi che ti vengono dati. Il terzo aspetto da tenere in considerazione sono le modalità di lavoro. Vi è mai capitato di ricevere una chiamata o rispondere al citofono che vi chiede se volete vendere casa o se conoscete qualcuno nelle vicinanze o nel vostro palazzo che vuole farlo? Ecco, quello è il modo in cui gli agenti immobiliari si sono procacciati il lavoro negli ultimi decenni. Quello che devi chiederti è come trova i clienti l'agenzia immobiliare dove vorrei cominciare a lavorare. Le migliori agenzie hanno abbandonato o stanno abbandonando questo vecchio metodo di lavoro che prevedeva chiamate a freddo a tappeto sull'elenco telefonico oppure citofonate completamente a caso cercando di elemosinare una casa in vendita. Adesso ci si sta orientando più al marketing, allo sviluppo del brand dell'agenzia ed a una produzione più automatica dei potenziali clienti dell'agenzia che vengono per lo più dall'attività online e dall'attività di marketing. E a quel punto l'agente immobiliare ha il compito importantissimo di prendere questi potenziali clienti, chiamarli e convertirli. Però a quel punto non sono più chiamate a freddo o contatti a freddo. Oltre a questo, i migliori agenti immobiliari, quelli più ambiziosi, affiancano la produzione di clienti provenienti dall'agenzia allo sviluppo che possono fare sul territorio, quindi al passaparola, facendosi conoscere, dicendo alle persone che fanno questo lavoro ovviamente riescono ad avere un giro di clienti anche più elevato. Il terzo aspetto è la formazione. E qui ci potrebbe essere una differenza importante tra varie agenzie, perché le agenzie più grandi fanno tantissima formazione, puntano molto sulla formazione e sulla crescita delle proprie risorse e hanno anche la capacità economica di farlo. Le agenzie di quartiere, quelle più piccole dove c'è una o due persone, spesso hanno difficoltà a fare questa cosa perché spesso sono il titolare e magari un altro collaboratore e sono immersi nel lavoro quotidiano e non potranno mai darti una formazione di livello. Il mio consiglio è quello di scegliere un'agenzia che ti possa dare un altissimo livello di formazione, però non ti fermare a quello che ti viene detto durante il colloquio. Chiedi praticamente come si sviluppa la formazione all'interno dell'azienda. Ci sono delle giornate dedicate, ci sono dei meeting dedicati alla formazione, avrai qualcuno che ti affianca nelle tue attività, che ti indica la strada migliore per portare a termine un affare? Queste sono le domande che dovresti porre a chi ti sta facendo il colloquio. Il quinto punto da considerare nella scelta di un'agenzia sono le prospettive di carriera. Tutti di nuovo ti diranno che ci sono grandi prospettive di carriera, ma cerca di prendere queste informazioni in autonomia. Parla con chi lavora effettivamente in quell'agenzia, guardali e cerca di capire se ti sembrano persone soddisfatte, che stanno crescendo velocemente, che hanno effettivamente delle prospettive per il futuro. Se non vedi tutto questo, anche se ti stanno dicendo che ci sono, insomma qualche domanda me la farei. L'ultima domanda che devi porti nella scelta dell'agenzia è grande marchio o piccola agenzia? Secondo me non c'è una regola generale. Io personalmente non mi fido dei franchising, perché poi all'interno dell'agenzia ci sono persone diverse, ci sono proprietari diversi per ogni ufficio, quindi avere un marchio conosciuto non è sinonimo di qualità. Non per forza. Dopo aver parlato approfonditamente della scelta dell'agenzia, passiamo al terzo passo per diventare agente immobiliare. Per ottenere l'abilitazione dovrai frequentare un corso. Ti ho consigliato ovviamente, prima di fare qualsiasi corso, prova, scegli un'agenzia, comincia a lavorare. Secondo me devi passarci almeno sei mesi, meglio un anno, per capire se il lavoro ti piace, se il lavoro puoi svilupparlo anche in futuro, e poi puoi pensare di frequentare il corso per agenti immobiliari. Attenzione che è un corso molto specifico, organizzato di solito dalle camere di commercio o anche da aziende private autorizzate dalle varie regioni. Si tratta di un corso obbligatorio per poi affrontare l'esame. Di solito sono circa 200 ore da fare in presenza o online, a seconda dei vari regolamenti regionali, e al termine dovrai affrontare un piccolo esame finale, che non è quello di abilitazione, semplicemente per verificare le conoscenze acquisite durante il corso. Una volta superato questo esamino, ti verrà dato un attestato di frequenza del corso per agenti immobiliari, che ti servirà per poi affrontare l'esame vero e proprio. Il corso verte su argomenti molto interessanti ma complicati, che si dividono in due campi principali, il diritto e l'estimo. Detta in parole semplici le leggi che riguardano la vendita degli immobili, i debiti, i mutui, eccetera, e l'estimo, che invece parla di urbanistica, catasto e stima dei valori delle proprietà immobiliari. Mentre studi e frequenti il corso, cerca sempre di approfondire, di trovare applicazioni di quello che stai studiando nel tuo lavoro quotidiano che stai facendo in agenzia. È il miglior modo per poter assimilare bene i concetti e avere sicurezza poi quando dovrai affrontare l'esame. Il quarto step è appunto affrontare l'esame di abilitazione. L'esame si divide in due parti, lo scritto e l'orale. Lo scritto è di solito un test a crocette diviso in due parti principali. Di nuovo, il diritto e l'estimo. Quando ho fatto io l'esame erano 10 domande e 10 domande, o 15 domande e 15 domande. Adesso non ricordo, ma potrebbe cambiare veramente da camera di commercio a camera di commercio a seconda della provincia o della regione in cui ti trovi. Non è tanto importante il numero di domande. Probabilmente la tua camera di commercio ha anche una super lista di tutte le domande che ti potrebbero capitare. Quindi il mio consiglio è falle tutte. Fai tutti i quiz che vengono messi a disposizione dalla camera di commercio in modo che sai le risposte a tutte le domande. Se passi la parte scritta, hai il diritto di accedere all'orale. Nell'orale ti trovi di fronte alla commissione d'esame che è composta da professori di diritto, di estimo e da rappresentanti della camera di commercio. Ti faranno sicuramente domande inerenti agli errori che hai fatto nella parte teorica. Quindi appena hai finito la parte teorica, ricordati le domande e cerca di capire se hai fatto degli errori perché sicuramente ti verranno chiesti nella parte orale. In ogni caso, stai tranquillo. Se sei preparato, passi. Il quinto e ultimo step per diventare un agente immobiliare a tutti gli effetti sono gli alliempimenti burocratici successivi all'esame di abilitazione. Dovrai iscriverti al registro degli agenti immobiliari nella camera di commercio dove hai la residenza. La camera di commercio sicuramente ti può dare tutte le indicazioni per iscriverti e ti aiuteranno a farlo. Io ho fatto tutto da solo. È fattibile. Dovrai anche attivare un'assicurazione professionale di importo differente al seconda del livello della tua organizzazione. Quindi se sei una ditta individuale e hai una partita IVA, avrai un'assicurazione più bassa. Poi c'è la società di persone che ha un'assicurazione un pochino più elevata e l'assicurazione più alta ce l'hanno le società di capitali, quindi SRL o SPA. Le assicurazioni più convenienti sono fornite dalle associazioni di agenti immobiliari professionali. Le più importanti in Italia sono la FIMAP e la FIAIP, ma ce ne sono anche altre. E oltre a un'assicurazione molto conveniente ti danno anche una serie di altri servizi come i formulari per i contratti preliminari e per gli incarichi, per l'antiriciclaggio e una serie di adempimenti burocratici che ti aiutano a svolgere. Una volta fatto tutto questo percorso non avete più limiti. Personalmente ci ho messo più di due anni da quando ho cominciato a lavorare in agenzia a quando sono riuscito a iscrivermi nel registro della Camera di Commercio come agente immobiliare abilitato. Quindi non ti scoraggiare, ci vuole tempo, ci vuole esperienza, ci vuole tanto studio e voglia di fare. Però una volta che hai fatto questo percorso, la tua carriera dipenderà solo dalla tua capacità e dalla tua ambizione. A questo punto puoi decidere se rimanere nell'agenzia in cui stai lavorando, se ti dà delle buone prospettive e effettivamente un ambiente valido in cui crescere, oppure puoi decidere di staccarti, se non trovi queste caratteristiche, e aprire una tua agenzia immobiliare. Quindi fammi sapere con un commento quali sono le tue ambizioni, a che punto ti trovi nel percorso per diventare un agente immobiliare di alto livello e ti ricordo di mettere mi piace al video, condividerlo e iscriverti al canale. Noi ci vediamo alla prossima.